La mostra è a Roma, palazzo delle esposizioni. A De Gasperi la illustra l'ingegner Valle dei lavori pubblici. I vari ministeri documentano qui la loro opera ricostruttiva. Le case anzitutto. 4 milioni di divani lesionati, quasi 3 distrutti. E più di 3 milioni e mezzo già restituiti agli italiani. Umiliati e offesi, senza tetto si sono riconciliati con la gioia di vivere. Frattanto si sono restaurati i monumenti. Più rapidi che le nostre speranze si sono rimessi a correre i treni. A volare sulle linee civili apparecchi nostri e aggiornatissimi. Gli acquedotti siciliani illuminano di fecondità le campagne. Problema tipicamente italiano, quello del regime delle acque. Per l'elettricità, l'irrigazione, le bonifiche. C'è molto da far vedere in questa mostra. Essa occupa due piani. È andata e va di corsa la nostra rinascita. Come questo trenino che guizza nella nuova stazione di Milano-Lambrate. E si trova i suoi scambi. Sono tanti, tutta una raggera i binari che si stendono verso il domani d'Italia.